Vi ricordate del fratello di Guglielmo, vero? Francesco? Forse tuo zio ti lascerà vivere con noi, Francesco. No, non lo farà mai. Ci sarà mai pace tra le nostre famiglie, Madonna. Devi sconfiggere Lorenzo. Non temete, zio. Io vincerò. Che cosa ci fai qui? Volevo vederti. Sì, e perché? Non possiamo essere ancora amici. Voi medici siete fastidiosi! Dio, smettila, Francesco! Smettila, ho detto! Se tira quello che ho detto, ritira la forza! Dobbiamo sempre cercare di tendere la mano in amicizia, anche se gli altri non la stringeranno. Lui mi ha cresciuto. È la mia famiglia. Vieni, Francesco. Resta dove sei. Non toccatelo! Anch'io, ora sono la tua famiglia. È un onore essere il suo padrino. Eravamo amici, Francesco. 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 Uccidilo! Tu sei un medici. Io sono un pazzo. Le amicizie tra noi è impossibili. Piccate il volume dove tutti li possano vedere. Ho sempre voluto che fossimo amici, Francesco. Lo saremo ancora.